Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui vi faccio un annuncio. Allora, cari ragazzi, sto preparando e penso di pubblicarlo domani o sabato, sto preparando un video sull'operazione Jabbily, ovvero sia l'incursione dei commandos canadesi, lo sbarco dei canadesi a Dieppe il 19 agosto 1942. Un'operazione che come ben sappiamo fu un devastante, fu un terrificante fiasco per la Gran Bretagna, fu un terrificante fiasco perché lo sbarco si risolse in un clamoroso fiasco. Un'incursione preparata male, veramente preparata male, un'incursione che però ebbe anche dei risvolti positivi. Vi leggo una cosa che ci servirà come preambolo al video vero e proprio sull'operazione Jabbily e su alcune cose. Nella seconda guerra mondiale, una storia di uomini di Enzo Biagi, Vincenzo Mantovani dedica un breve paragrafo all'operazione Jabbily che penso sia molto utile leggere e penso sia molto utile per capire cosa avvenne il 19 agosto 1944. Nell'estate 1942 Hitler aveva lasciato la tana del lupo a Rastenburg nella Prussia orientale per trasferirsi a Vinnitsa in Ucraina per dirigervi personalmente le operazioni contro il Caucaso. Il 19 agosto arriva a Vinnitsa una notizia sconvolgente. Gli inglesi sono sbarcati a Dieppe. I primi rapporti del gruppo di armate Ovest parlano un gruppo di armate Ovest che era affidato dal primo marzo al Ferd-Maresciallo Gerd von Rönnstedt il nostro vecchio amico parlano di una operazione militare in grande stile. Hitler appare molto preoccupato che il nemico abbia deciso di tentare di prendere le Havre o di spezzare le difese di Calais. L'operazione Giabili, voluta da Churchill a tutti i costi contro il parere di Montgomery, che pure l'aveva preparata che nella sua veste di comandante in capo delle forze armate dell'Inghilterra sudorientale ha cercato fino all'ultimo di rinviarla a Sinedie cioè il piano era suo, l'operazione era sua ma Montgomery sapeva, pensava, sentiva che si sarebbe risolta in un disastro. Giabili è effettivamente un'operazione in grande stile la più grande che gli alleati abbiano mai progettato finiranno per esserci impiegati circa 6.000 trafanti e marinai ma all'inizio si era previsto di impegnarvi più di 10.000 uomini. Se avesse saputo tutto Hitler non avrebbe avuto alcuna ragione di preoccuparsi perché il piano dell'operazione Giabili nonostante i lunghi mesi dedicati dallo Stato Maggiore Britannico allo studio del terreno e all'addestramento delle truppe si basa su informazioni grossolanamente errate. Lo stesso Churchill nelle sue memorie confessa di aver creduto che Dieppe fosse difesa solo da truppe di secondo ordine solo da truppe tedesche di secondo ordine numericamente insufficienti in realtà come si vide poi le truppe che difendevano Dieppe erano tutt'altro che truppe scadenti tant'è vero che inflissero ai canadesi che sbarcarono una durissima sconfitta. Il piano studiato personalmente da Churchill insieme al Capo di Stato Maggiore Imperiale Lord Ellenbrook a Lord Mountbatten e al Comandante delle Forze Navali Britanniche prevede che quattro squadre di commando mettano anzitutto fuori uso le batterie costiere piazzate dai tedeschi a est e a ovest di Dieppe a Berneval e a Varensville-sur-Mer altri reparti di fanteria sbarcando a Puy e Pouville dovrebbero ridurre al silenzio i cannoni di Novigli e le postazioni di mitragliatrici nella fattoria Le Quatre Van Ciò fatto, mentre alcuni reparti si spingono verso l'interno lungo il corso del fiume Lassie per distruggere l'autodromo di Saint-Aubin una trentina di carri armati sbarcati sulla spiazza principale procederebbe all'occupazione della città quello inviato alla conquista di Dieppe è in pratica un vero e proprio corpo di spedizione allestito da Churchill un po' per tenere buono Stalin il quale non ha torto diciamo si lagna di essere da Stato lasciato solo a combattere i tedeschi e qui bisogna dire la verità che il buon Peppe Acciaio Baffone non aveva tutti i torti ecco diciamo Peppe Acciaio Baffone sbraitava per l'apertura di un secondo fronte gli alleati sapevano bene però di non essere pronti e per tenere buono il buon Baffone Dunil si sono studiati Dieppe però se la sono studiata male questa incursione che aveva lo scopo ufficiale di catturare alcune installazioni radar nella città e di fare un'incursione di commando diciamo in grande stile che cosa possono fare d'altronde gli alleati a Dieppe se non nella migliore delle ipotesi distruggere depositi di munizioni e carburante incendiare qualche gasometro e qualche centrale elettrica per poi darsi la gambe con la massima velocità a parte il commando e dei mezzi da sbarco e delle unità di scorta il grosso delle truppe è formato da soldati canadesi e tutto va storto sin dal primo momento perché il fattore sorpresa sul quale contano gli assalitori è compromesso dal casuale incontro di uno dei gruppi da sbarco con una flottiglia di pescherecci armati tedeschi che prima costringono le unità a disperdersi poi danno l'allarme ne segue una serie di scontri sanguinosi sulle ripide scogliere e intorno ai cannoni tedeschi che in qualche caso come a Varangeville sul Mer vengono effettivamente distrutti ma che per la maggior parte con il loro tiro micidiale continuano a ostacolare le operazioni di sbarco bloccati a Berneval i commando devono riprendere il mare mentre i canadesi vengono respinti a Puy e fermati dopo il successo dei primi attacchi effettuati a Pouvigli 29 carri armati riescono a sbarcare sulla spiaggia di Dieppe ma i genieri incaricati di precederli facendo saltare gli sbaramenti anticarro sono stati così decimati dal fuoco delle mitragliatrici tedesche che i tank finiscono per restare intrappolati e senza munizioni gli innumerevoli atti di valore susseguitesi la mattina del 19 agosto 1942 nel tratto di costa francese tra Berneval e la foce della Saon non attenuano l'impressione di un ingiustificabile massacro basti pensare che in otto ore di combattimento 3.372 dei 5.000 canadesi impegnati nell'azione vengono uccisi feriti o fatti prigionieri mentre la Royal Air Force perde un centinaio di aerei contro i 48 persi dai tedeschi la marina britannica perde 550 uomini numerosi mezzi da sbarco e addirittura un cacciatorpediniere Churchill davanti alla sproporzione tra le perdite subite e i risultati ottenuti sentirà dopo la guerra il bisogno di giustificarsi e scriverà che l'operazione Jabbily è stata una ricognizione in forze costosa ma non inutile miniera d'esperienze dal punto di vista tattico era servita sul piano strategico a far meglio comprendere ai tedeschi il pericolo che incombeva sulla Francia e ad alleggerire il peso che gravava sulla Russia altri hanno voluto vedervi una specie di prova generale dell'operazione Overlord Overlord Scusate Overlord mare ma maiala ma perché devo essere così rimbambito scusate 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 allora certo è che von Rundstedt può segnalare con una robusta dose di prussiana prosopopea che alle 4 del pomeriggio la vita a Dieppe è tornata alla normalità che tutti i negozi sono aperti e che la popolazione locale contrariamente al caso di Saint-Nazaire dove alcuni civili si sono battuti al fianco degli inglesi a Dieppe la popolazione civile ha lealmente collaborato con i tedeschi felice Hitler ordina allora di liberare i prigionieri di guerra francesi della zona poi ringrazia ironicamente gli inglesi è la prima volta che si ha la cortesia di attraversare il mare per offrire al nemico un campionario completo delle sue nuove armi allora la situazione bene o male è questa dopo nei prossimi video parleremo più approfonditamente dell'operazione Giabili questo è soltanto un preambolo una breve spiegazione però Churchill che scrive però diciamo ex post dopo i fatti dice una cosa si giustifica dicendo che l'operazione Giabili è stata una ricognizione in forze sì costosa ma non inutile è una miniera di esperienze e che soprattutto aveva fatto capire anche certe cose a Stalin all'alleato sovietico ovvero sia che gli alleati occidentali non erano ancora in grado di sbarcare in forze sul continente sbarco che avvenne poco meno di due anni dopo allora Churchill nelle sue memorie spiega di avere ordinato di avere voluto a tutti i costi l'operazione Giabili per fare esperienza e oggettivamente l'esperienza fu fatta perché insomma signori teniamo presente una cosa dopo l'operazione Giabili gli inglesi gli alleati occidentali in generale non sbagliarono più un'operazione di sbarco Sicilia Salerno Anzio cioè aspettate Anzio la forza di sbarco ad Anzio sappiamo bene fu insaccata e accerchiata per mesi ma tecnicamente lo sbarco riuscì Overlord Anvil barra Dragon tutte le operazioni da sbarco sul teatro europeo effettuate dopo Dieppe furono tutte coronate da successo e non state a menarmi il torrone a Anzio a Overlord gli obiettivi non furono raggiunti il primo giorno bla 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 un conto sono gli obiettivi un conto è la teoria un conto è la pratica perché ricordatevi sempre che la prima vittima del primo sparo sul campo di battaglia è sempre il piano operativo e non sono certo io a dire ma Dieppe l'operazione Giabele un tentativo di una incursione in forze per distruggere ripeto l'obiettivo era catturare una stazione radar distruggere depositi di carburante caserme e diciamo depositi la logistica signora dar fastidio alla logistica ma fu un clamoroso fallimento nei prossimi video analizzeremo il fallimento di Dieppe i motivi tecnici la dinamica del fallimento di Dieppe parleremo soprattutto del grande protagonista in negativo di Dieppe ovvero sia uno quello che come dire si può chiamare indubbiamente uno dei miei carri uno dei miei carri armati uno dei miei carri armati favoriti ovvero sia il beneamato ciabattone ovvero sia il carro per fanteria a 22 Churchill lui eccolo qua questo è la versione col petard col mortaio spigot quanto è bello guardate quanto è bello il ciabattone vabbè lasciamo stare 40 tonnellate parleremo di svariate insomma parleremo di che cosa accade a Dieppe spiegheremo che cosa accade a Dieppe cercherò di fare una breve cronaca dell'azione dell'operazione Giabili è molto interessante perché spiega realmente Churchill va bene che Churchill lo racconta nelle sue memorie scritte molti anni dopo il fatto però lui si voleva giustificare dall'avere come dire voluto a tutti i costi e quest'azione poi rivelatasi fallimentare vero ma è vero anche è vero anche che in seguito le lezioni le lezioni le durissime lezioni prese a Dieppe furono estremamente utili agli anglo americani per i loro successivi sbarchi che ripeto furono praticamente tutti coronati da successo va bene l'operazione Torch l'invasione delle colonie francesi lo sbarco in Marocco e Algeria fu più che altro cioè insomma fu un grande successo anche se la resistenza delle truppe di Vichy ci fu e non ci fu insomma lo sapete anche voi l'operazione come dire l'operazione ASCII lo sbarco in Sicilia l'operazione l'operazione Avalanche ovvero sia lo sbarco a Salerno anche la discussa e discutibile l'operazione ASCII tecnicamente fu un'operazione di sbarco ben riuscita anche se poi la forza da sbarco non ebbe non ebbe la prontezza di avanzare verso Roma come previsto ma insomma tecnicamente lo sbarco riuscì così come riuscì in maniera oserei dire magistrale overlord come riuscì anche l'operazione Anvil Dragon ovvero sia lo sbarco nella Francia meridionale un argomento che spero vi interesserà un argomento che spero vi piaccia questa è l'anteprima io vi abbraccio fortissimo vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao